A Lugano! Direi che a Bri si sente di più, rimbomba la valascia così piccolo. Essere piccolo ha ogni tanto i suoi vantaggi secondo me. È una domanda abbastanza... Tra buchetto. Sì, dove non possiamo rispondere. Faccio rispondere prima a te. Grazie, molto gentile. Non sto rificino a dire, ma io trovo che il nostro D'Agostini quest'anno sta viaggiando davvero bene, quindi per adesso io confido su di lui il miglior giocatore. È che da parte mia chiaramente non posso che dire che giocatore più forte è Lugano, sui miei compagni e di conseguenza rispondo a Lugano. A dire che non so di cosa si parla di bellezza, ma penso che i nostri sono sempre molto originali, sia nelle coreografie che nel modo di vestire. Cosa ne pensi dei tuoi? Sì, anche da parte nostra, le coreografie sono sempre bellissime. Poi sono tutti i bei ragazzi, tutti veramente, guardano tutti bellissimi. Io dico Lugano. Direi difficile da dire. Nessuna idea. Spero che sia tifoso del Lugano. Avrei detto la stessa cosa io. Magari speriamo sia tifoso di tutti e due, chi lo sa. Sì. 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 Una bella domanda. Non so, ci incontriamo a fare un paio di mesi e ne discutiamo? Tu non dici? Caravanzino di Cognini. Speriamo quest'anno di finalmente poterci giocare ancora un'altra finale e portare a casa il titolo sarebbe un sogno che si realizza. Caravanzino di Cognini. Speriamo quest'anno. Grazie a tutti.